Io sono Dina. E questa è la mia storia. E questa è la mia storia. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove... È caduto molto lontano. Sì. Torniamo a letto. Ti voglio bene. Io ho paura, mamma. Voglio dormire con te e papà. Non c'è nulla di cui aver paura. Non c'è nulla di cui aver paura. Non c'è nulla di cui aver paura.